Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori trapani avvitatori a batteria. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link dei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori trapani avvitatori a batteria. Quindi cominciamo con il trapano avvitatore a batteria Einhell. Questo trapano Einhell è molto pratico come gli altri trapani che presenteremo ovviamente per la funzionalità della batteria. Infatti questa caratteristica ci permette di non essere disturbati dai fili quando usiamo i nostri trapani. Prima di tutto rende il nostro lavoro molto più facile perché abbiamo più libertà di movimento ed è quindi più facile da usare ma è anche molto più sicuro perché non abbiamo fili quindi non c'è rischio di inciampare e cadere. Inoltre è molto facile da usare grazie alla sua impugnatura ergonomica e non avrete una grande sensazione di vibrazione come accade con i vecchi modelli di trapani. La batteria fornita con questo modello può essere utilizzata anche con tutti gli altri ustensivi a batteria Einhell Power Exchange. Poi troviamo il trapano avvitatore Black & Decker. Iniziamo parlando di una delle cose che ci piace particolarmente questo trapano avvitatore, la sua custodia. Infatti questo dispositivo viene consegnato nella sua custodia completa, avere una tale custodia è particolarmente interessante perché permette di prendersi cura del proprio dispositivo per essere sicuri che sia ben conservato e che non si danneggi. Il trapano avvitatore Black & Decker è anche molto facile da usare grazie al suo peso leggero e alla sua impugnatura ergonomica. Ancora una volta ciò che è estremamente pratico di questo dispositivo è che senza fili, il che permette una perfetta libertà di movimento e permette anche di lavorare in perfette condizioni di sicurezza. Questo trapano avvitatore ha una velocità di 650 giri al minuto e 10 livelli di regolazione per adattarsi al tipo di lavoro che devi fare. E per finire ecco il trapano della famosa marca Bosch. Questo trapano avvitatore è un dispositivo estremamente potente nonostante le sue piccole dimensioni, ha una velocità di 1450 giri al minuto che è davvero impressionante. Quando si tiene il dispositivo in mano è davvero leggero e non si può indovinare tale potenza. Inoltre l'impugnatura è perfettamente ergonomica e anche a piena potenza la sensazione di vibrazione non si sente troppo. Per darvi un'idea della potenza la coppia massima è di 40 Nm. Ci sono 8 velocità che potete scegliere secondo le vostre esigenze e 20 impostazioni di coppia. Questo è molto pratico perché permette di adattare la velocità e la coppia al lavoro che si deve fare. Non importa se hai bisogno di essere piuttosto preciso o se hai bisogno di forare forte, questo trapano avvitatore farà tutto. Infine dovete sapere che la batteria funziona anche con tutti i dispositivi cordless di Bosch. Ecco grazie per aver seguito questa top 3, spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo il link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione, puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.